In collaborazione con Glamvision e Ottima Trento. La galleria Adige Garda per manutenzione. Impatti trascurabili sul lago. Attività necessaria per la sicurezza e la funzionalità dell'opera. Uber Pircher compie 65 anni. La storia del centravanti altoatesino, campione del mondo mancato in Spagna nel 92 a causa della pubalgia. L'altra montagna. Bob Cortina inizia lo smantellamento nella foto del parco giochi costato un milione di euro per lasciare spazio alla pista. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glamvision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su Glamvision.it